Santerini che è arrivato ora, Colaninno ancora non riesce a votare, Boccuzzi, Di Salvo, Onorevole Boccuzzi, ecco il sistema funziona ma non tiene il voto, Onorevole Di Salvo ha votato, Ciprini in arrivo, è così bueno, aspettiamo le due colleghe e poi chiudiamo. Onorevole Bueno ha votato, ok, è chiusa la votazione. La Camera respinge, passiamo all'ordine del giorno 10 Coppola è accolto, 11 gli annuzi, Tino c'è una riformulazione, va bene, Bocca d'Utri è accolto, Crimi, parere contrario, è aperta la votazione. Folino, Bolognesi, Marzano, Marzano, ok, Garfagna, ok, Bonaccorsi, Colaninno, Boccuzzi, Di Salvo, stamattina c'è questa squadra, Di Salvo appunto, a posto, ok, tutti a posto, di qua pure, aspettiamo Gelmini e Micillo invece, bene. Di Stasso. Grazie. Grazie. Grazie.